Carlotta Gori, direttore del Consorzio Vino Chianti Classico. Un'annata sicuramente complicata nella gestione delle quantità che questa vendemmia ha visto sicuramente ridotte per una serie di eventi climatici avversi, che però hanno inciso sul dato quantitativo ma per fortuna non qualitativo e quindi comunque nelle cantine c'è del vino di ottima qualità e certamente la riflessione su come fronteggiare questo clima che sta cambiando è al centro delle nostre attenzioni. Sì, sicuramente l'innovazione ma grande attenzione alla gestione dei territori, soprattutto al rispetto della natura in tutti i suoi aspetti e una nuova visione proprio di gestione del vigneto in un'ottica di protezione della natura e dell'ambiente.